Sul Selciato ci sono ancora le tracce dell'accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Vittima una donna, l'uomo con lei picchiato da una banda di ragazzi. Siamo vicini al locale Jador che è frequentato dai giovani e davanti al consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quello che è accaduto però è ancora da ricostruire. L'accoltellamento è avvenuto in via del Boscon, non lontano dalla discoteca Jador. La magistratura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate. Nella notte tra sabato e domenica una coppia è stata aggredita. Lei è stata ferita da una coltellata al braccio e lui è stato picchiato da un gruppo di persone, probabilmente di giovane età. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della polizia che è immediatamente intervenuta sul luogo dell'accoltellamento. Qui c'è un'attività investigativa in corso, coordinata dalla Procura della Repubblica. Quindi su questo non posso dire se non che la squadra mobile di questa questura sta attivamente lavorando sul caso. Possiamo sperare che si risolva in tempi brevi? Sperare? Le speranze sono sempre considerate accettabili e positive, ma è inutile fare previsioni. Bisogna lavorare, il lavoro investigativo è un lavoro certosino, bisogna mettere insieme i pezzi, bagliare tutte le situazioni e poi vediamo dove arriveremo. Gli autori dell'aggressione per il momento non sono stati ancora individuati, ma si spera che le descrizioni fornite dalle vittime possano aiutare a individuarli. I fatti sono avvenuti verso le 5 del mattino, quando la discoteca era già chiusa. La coppia sulla quarantina sarebbe stata circondata da un gruppo di quasi una decina di persone davanti all'ingresso del consorzio agrario. Arrivati all'ambulanza, gli aggrediti sono stati portati al pronto soccorso del San Martino. L'anziano 86enne, che abita nella casa dall'altra parte della strada, ci racconta i rumori stentiti nella notte, ma di come, abituato agli schiamazzi, non si sia affacciato a guardare, scoprendo l'accaduto il giorno dopo, quando dietro il garrei, dalla parte dove abita, le forze dell'ordine, che secondo lui cercavano una borsa, hanno trovato un portafogli. Infine ci fa notare come l'uva della sua pergola si è finita schiacciata vicino a dove si è verificato l'accoltellamento, come dire che chi c'era era lì da un po'. Le indagini proseguono con il massimo riservo, ma trapela una cauta fiducia nel buon esito delle operazioni in corso. Chiaramente è un fatto che ha una certa rilevanza da un punto di vista criminale, e quindi logicamente dobbiamo cercare di fare luce.